Cresce il numero dei candidati che correranno la carica di sindaco alle prossime elezioni amministrative in programma il 14 e 15 maggio nel comune Costiero di Silvi. Oggi è stato il turno di Giuseppe Gentile, sostenuto da forze civiche locali e dai partiti Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Articolo 1. Un polo progressista, così si è definito, che ha l'ambizione di amministrare la città con nuove idee e nuove persone. La scelta di Gentile è arrivata dopo una serie di interlocuzioni tra tutte le parti chiamate in causa. Quando qualcuno ha paventato questa ipotesi di creare una forza ampia da condividere e hanno considerato me come elemento che potesse convogliare tutte queste energie, e mi sono sentito onorato ma soprattutto sorpreso perché mi sono allontanato completamente dalla vita politica, dalle varie realtà di partito. Hanno pensato bene o male, questo lo vedremo, di convogliare in me la loro onda di entusiasmo per questa avventura elettorale. Giuseppe Gentile negli ultimi anni ha ricoperto anche il ruolo di componente del Consiglio d'amministrazione dell'area marina protetta, Torre del Cerrano. Quali sono le sue idee per il futuro di Silvi? Idee ce ne sono tante, da tutti i punti di vista, logicamente, che tocca la vita dei nostri cittadini. Io però quello che racconterò, tra virgolette, in giro è che si deve partire innanzitutto dal decoro urbano, dalle piccole cose, dall'ordinario. Io raccontare cose straordinarie oggi a me suona sempre di presa in giro perché abbiamo visto le ultime amministrazioni sono state lacunose, proprio dal punto di vista della cura del territorio e dico io, come facciamo a promettere cose grandiose quando non riusciamo a realizzare l'ordinario? Va anche a braccetto poi il problema della viabilità perché con la pista ciclabile che sicuramente è un elemento di civiltà in un paese, ma lo si doveva fare probabilmente con un'ottica diversa, con un'attenzione al problema cronico che abbiamo in estate dei parcheggi e questo problema non è stato praticamente affrontato proprio per niente e questa è una delle sfide che ci ripromettiamo di portare avanti.